Saper aspettare è una virtù. Prendersi lo spazio per analizzare e analizzarsi. Metabolizzare ciò che ormai è dietro le spalle e aprire, poi, un nuovo capitolo. Che sia diverso, certo, ma che non sconfessi il sé. Aiello è ancora lui, decisamente. La voce, i testi, la passione. Dopo l'esperienza a Sanremo, nel marzo 2021, si è preso un momento per riordinare le idee e ricomporre il puzzle. E adesso è tornato. Mi sono sentito sospeso per un anno e mezzo, ci rivela il cantante Cosentino presentando Romantico, il suo terzo album. Ho tirato il freno a mano e ho iniziato un percorso che mi è servito, perché men a mano che andavo avanti nascevano canzoni e ritrovavo la leggerezza che avevo perso. Leggerezza, non superficialità. Partiamo dalla genesi del disco, appunto. Dov'è cominciato tutto? Ho in testa una passeggiata a Milano con il mio produttore, Braille, mentre ascoltavamo il provino. Parlavamo della tendenza a non rischiare nelle relazioni, a non corteggiare, a rimanere dietro lo schermo di uno smartphone. Avevo realizzato che anch'io, negli ultimi anni, mi ero negato una serie di slanci. In copertina appare trafitto dalle frecce di Cupido. È come se avessi deciso di risvegliare quella parte di me romantica, comunicarla con orgoglio, farmi promotore di un ritorno a rapporti più umani e meno virtuali. Un lavoro per me terapeutico e spero utile anche per gli altri in un periodo in cui è necessario ricercare l'amore vero, vissuto, con meno rigidità. Le collaborazioni con Gaia e Alessandra Amoroso, invece, come sono nate? In maniera naturale. Non ti vado via aveva bisogno di una voce femminile, come quella di Gaia, che sa di estate, siamo amici, le ho scritto appena me sono reso conto e lei è stata felicissima di partecipare. Con Alessandra c'è una rapporto speciale, eravamo seduti in terra a ascoltare la demo del disco, si è commossa mentre passava P.A.N.C., mi ha detto che voleva provinarla, al di là dell'affetto che ci lega, questo mi ha inorgoglito perché la stimo davvero tanto come artista. Real Video vi ringrazia per averci accompagnato fino alla fine. Per rimanere sempre aggiornati sui nostri prossimi video, vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale e attivare la campanella delle notifiche. Grazie per il vostro supporto.